Camera di commercio e comuni stringono un patto su ambiente e energia, due settori che racchiudono una serie di opportunità per ridurre l'inquinamento e per valorizzare le risorse dei singoli territori. L'ente camerale di Campobasso ha promosso un bando rivolto alle amministrazioni comunali della provincia, proprio per realizzare un modello di comune sostenibile. Vogliamo dimostrare che con un'attenta politica delle energie rinnovabili e sostenibili ci sarà un ritorno economico per le casse del comune e poi, perché no, un modello di vita per chi abita in questi comuni veramente accettabile. Il comune di Riccia ha sposato in pieno la proposta lanciata dalla Camera di commercio. Abbiamo avviato con la Camera di commercio e grazie alla Camera di commercio tre anni fa un'iniziativa di programmazione e di pianificazione, soprattutto in materia energetica, per il risparmio. Riccia oggi sugli edifici pubblici i tetti solari, ha cambiato la caldaia delle scuole per mettere quella a legna, quindi abbattendo il metano e i consumi più a produzione di CO2, ha sostituito interamente il depuratore pubblico. Anche il sistema irriguo comunale è stato modificato con una serie di controlli informatizzati che ci rendono possibile oggi controllare l'intero flusso, ma soprattutto abbattere i costi del consumo energetico. Abbiamo lavorato molto con le scuole, con programmi di informazione e formazione.